benvenuti amici di italia 7 qui a firenze spettacolo il mensile di anteprima sui migliori eventi a firenze e in toscana ad arezzo da mercoledì 20 a domenica 24 il festival dello spettatore sesta edizione di questa manifestazione speciale che pone l'attenzione proprio sul pubblico mentre da sabato 23 a domenica 31 alla fortezza da basso florence biennale la mostra internazionale d'arte contemporanea ospiti speciali quest'anno viviene westwood e michelangelo pistoletto mentre per il fine settimana sabato 23 e domenica 24 artigianato alla certosa due giorni alla certosa di firenze dedicati allo shopping tra abbigliamento vintage gioielli bijoux ed enogastronomia proprio dedicati allo shopping autunnale quindi due giorni alla certosa di firenze con artigiani alla certosa le nostre pagine come sempre vi raccontiamo le novità a livello della ristorazione a firenze in toscana anche questo mese ampio spazio dedicato alle recensioni che ogni mese stiliamo per voi tra ristoranti gourmet trattorie e ristoranti fuori porta quindi una sezione ampissima dedicata a tutte le novità e che noi chiamiamo appunto la città golosa inoltre vi ricordo sul nostro store firenze spettacolo.it tantissimi nuovi italiani di sconto per ristoranti manifestazioni e benessere allora buon eventi a firenze e in toscana